Piergui, iniziamo da te. Quale tra queste quattro si utilizza per gli uomini e quando? Mettiamo mister, prof, si usa sempre che sia single, sposato, è la stessa cosa per gli uomini. Bravissimo. Vediamo le donne. Clibia, quale si usa per la donna non sposata? Miss, come Miss Keta, Miss Instagram. Parteggio qui. Sì, Miss Instagram. Vabbè, quando una donna è sposata utilizziamo Missis e l'ultima, Sanso, M-S. Che cosa significa e come si legge? Ma professore, scusi, ma la più difficile è sempre a me, non lo so, quando si usa. Si usa quando non si sa se la donna è sposata o singolo o comunque quando non si vuole dire, insomma, è un atto di cortesia. Ma dimmi come si pronuncia. Cosa c'è? Ma Clibia, sveglia, si sto leggendo la lavagna, no? No. Grazie a tutti.